leggiamo e ascoltiamo fare delle piadine vegetariane come primi piatti vi consiglio degli spaghetti alla bolognese e dei tortellini in brodo tre secondi stasera abbiamo del filetto con i funghi porcini una vera delizia marcello bene per antipasto prendiamo qualche piadina mista poi per primo prendiamo i tortellini ragazzi per voi va bene ilaria sì e come secondo piatto prendiamo il filetto dell'insalata come contorno cameriere e da bere cosa prendete marcello dell'acqua gasata e del vino della casa poi prendiamo anche del tiramisù a anche dello spumante stasera brindiamo la mia promozione sul lavoro cameriere auguri allora bene torno fra qualche minuto con gli antipasti dovete rispondere adesso a queste domande dove sono marcello e colleghi che cosa festeggiano cosa vuole ordinare marcello per prima cosa che cosa consiglia il cameriere tra gli antipasti primo e secondo che cosa ordinano da mangiare come primo e come secondo e da bere